Donald Trump la chiama una caccia alle streghe, ma stavolta la procedura di impeachment il presidente rischia di affrontarla sul serio. Ad annunciarla è stata la presidente della Camera, la democratica Nancy Pelosi. L'indagine che starebbe per partire riguarda la richiesta fatta a luglio al presidente ucraino, il neoeletto Volodymyr Zelensky, al quale si chiedeva di indagare sulle attività commerciali gestite nel paese del figlio di Joe Biden, tra i democratici più quotati per la corsa alla Casa Bianca del 2020. Il presidente ha ammesso di aver chiesto al suo omologo ucraino di intraprendere azioni a suo vantaggio politico. L'azione di Trump e le azioni della presidenza Trump hanno rivelato il disonorevole tradimento compiuto dal presidente riguardo al suo mandato, il tradimento della nostra sicurezza nazionale e dell'integrità delle nostre elezioni. Ad accendere la miccia le rivelazioni di un informatore circa una telefonata tra Trump e Zelensky. Quest'ultimo, secondo i democratici, sarebbe stato minacciato di non ricevere aiuti militari se un'inchiesta per corruzione non fosse stata aperta contro Biden e suo figlio Hunter. La telefonata era impeccabile. Anche il governo ucraino ha rilasciato una dichiarazione su questo. Non c'è stata alcuna pressione su di loro. Biden, dal canto suo, ha sostenuto la procedura di impeachment. Il presidente dovrebbe smettere di bloccare questa indagine e tutte le altre indagini sulle sue presunte irregolarità, ha dichiarato Biden. In un tweet Trump ha accusato i democratici di aver voluto soltanto sabotare il suo intervento alle Nazioni Unite con una caccia alle streghe a orologeria. Ora resta da vedere se le accuse saranno portate come da prassi di fronte a entrambe le Camere del Congresso.